Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovo video. Parliamo di un retroscena che ha dei risvolti pesanti sui Ferragnez. Parliamo di Selvaggia Lucarelli più che altro perché il duro attacco prende di mira proprio loro. La nota giornalista e giudice di Ballando con le stelle si è trovata al centro di diverse polemiche a cui ha fatto fronte esprimendo liberamente il proprio punto di vista e senza troppi giri di parole. Quindi oggi la sua attenzione si è rivolta sulla coppia Chiara Ferragni e Fedez, vabbè noi li chiamiamo abbreviando i Ferragnez. Ecco cosa ha detto su di loro. Prende di mira proprio la nota influencer con parole mirate e commentare una delle ultime trovate dell'imprenditrice. La moglie di Fedez ha infatti deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba il cui ricavato sarà però destinato in beneficenza. Quindi parliamo di una cosa buona. Una decisione che a detta della giornalista appare un po' ambigua come per dire ma c'è qualcosa sotto. Queste sono infatti le sue parole. Dicendo, nelle sue storie Chiara Ferragni ci fa sapere che vende i suoi abiti e accessori di lusso, più o meno tutte cose che le regalano, e parte del ricavato va in beneficenza senza specificare quanta parte vada effettivamente in beneficenza. Quindi così si è espressa Selvaggia Lucarelli postando una storia su Instagram. Al momento però non c'è stata risposta da parte della Ferragni ma non si esclude che l'influencer possa rispondere addirittura a tono. Cioè anzi magari anche spiegando bene la situazione così si tolgono i dubbi della Lucarelli per quanto riguarda questo fatto qui. E tutto questo, tutto anche alla luce dell'ultima indiscrezione che sta circolando da qualche giorno sul possibile abbandono del programma da parte della Lucarelli. Il sito La Nostra TV ha riportato integralmente il messaggio social dell'utente che lancerebbe tale indiscrezione. E infatti ha detto, alla luce di quello che sta venendo fuori, io non credo che Selvaggia Lucarelli voglia e possa rimanere anche nella prossima stagione di Ballando con le stelle. Tutto è diventato una specie di trappola per lei e non se lo merita come professionista. Ma a prescindere da quello che ha detto, noi staremo a vedere cosa accadrà proprio nei prossimi giorni. Quindi seguite tutti i vari aggiornamenti. Io intanto vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon weekend a tutti. Noi ci becchiamo alla prossima, sempre su Pausa Caffè per un nuovo video.